Almeno otto persone sono morte a causa di nuovi attacchi effettuati con missili e droni in Ucraina nella giornata di venerdì. Tra le vittime del raid aereo russo nella regione centrale di Dnipro, che ha colpito abitazioni e infrastrutture civili, ci sarebbero anche due bambini. Decine di altre persone sono rimaste ferite. I servizi segreti ucraini sostengono di aver abbattuto uno dei bombardieri a lungo raggio coinvolti nell'attacco, ricostruzione che però viene smentita da Mosca. Con l'intensificarsi della battaglia aerea e terrestre, le speranze di pace intanto diventano sempre più remote. Il ministro degli esteri russo, Sergei Lavrov, ha dichiarato che anche se i colloqui dovessero iniziare, non ci sarà un cessate il fuoco. Abbiamo pieno credito che ci devono proseguire un'operazione speciale aerea. Abbiamo indicato la preparazione per l'attacco non per l'attacco. È davvero così. Ma il risultato con Zelensky è semplice. Intanto negli Stati Uniti la Camera ha effettuato passi avanti sul pacchetto di aiuti esteri a favore di Ucraina, Israele e Taiwan. Con una rara votazione bipartisan è stato concesso un primo via libera al programma, il cui valore è di 95 miliardi di dollari. Previsto per sabato il voto definitivo.